Londra è una fantastica metropoli piena di storia, cultura e straordinariamente cosmopolita. Se sogni di avventurarti in un mix unico di tradizione e modernità, la capitale del Regno Unito è il luogo perfetto per te. Le cose da fare e da vedere sono davvero tantissime, ma ecco un percorso avvincente per chi vuole visitare questa città in pochi giorni oppure in un weekend. Guarda tutto il video, perché alla fine abbiamo preparato una sorpresa, una chicca che non troverai nelle solite guide turistiche e che trasformerà il tuo viaggio in un'esperienza unica. Partiamo! London Eye Il nostro viaggio a Londra inizia con una prospettiva senza pari sulla città, dalla cima del London Eye. Questa monumentale ruota panoramica offre un'esperienza indimenticabile, permettendoti di ammirare l'intera città dall'alto. Inizialmente la struttura è stata realizzata con un permesso temporaneo di 5 anni, dopodiché avrebbe dovuto traslocare altrove. E invece il successo riscosso ha fatto sì che il permesso divenisse permanente con grande soddisfazione dei turisti. Dalle sue cabine sperimenterai una vista impareggiabile, che renderà questa esperienza una tappa fondamentale nella tua visita a Londra. Buckingham Palace, la residenza reale. Proseguendo, consigliamo di dirigersi verso il maestoso Buckingham Palace, la residenza ufficiale del re. Qui potrai assistere allo spettacolo del Cambio della Guardia, un rituale importante che mostra l'essenza della tradizione britannica. L'architettura regale e l'atmosfera sontuosa rendono questa una delle tappe più affascinanti del tuo itinerario a Londra. Big Ben e il Palazzo del Parlamento. Il nostro viaggio continua con una visita ai simboli iconici di Londra. Il Big Ben e il Palazzo del Parlamento. L'orologio della torre, con la sua imponente presenza, domina il panorama, mentre il Palazzo del Parlamento aggiunge un tocco di grandiosità all'atmosfera londinese. Per goderti al massimo questa vista, il nostro suggerimento è quello di procedere con una tranquilla passeggiata lungo il Tamigi e catturare la magnificenza di queste strutture storiche. Tower Bridge. Attraversando il Tamigi potrai immergerti nella bellezza architettonica del Tower Bridge, il ponte elevatoio che dal 1886 unisce la sponda nord e la sponda sud del Tamigi. Con la sua struttura imponente, il Tower Bridge è un capolavoro di ingegno e architettura, attraverso cui è possibile ammirare la città di Londra da un ulteriore punto di vista. Piccadilly Circus. Spostandoti nel cuore pulsante di Londra, è arrivato il momento di visitare un altro dei luoghi iconici di questa città. Piccadilly Circus. Con le sue vivaci insegne luminose e un trambusto costante, Piccadilly Circus è il luogo perfetto in cui immergersi se sei interessato alla vita notturna. Sorseggia una bevanda calda in uno dei caffè iconici e goditi al massimo l'energia di questo luogo. Soho. Passando per il vivace quartiere di Soho, scoprirai una Londra alternativa e creativa. Con le sue strade piene di locali alla moda, gallerie d'arte e teatri, Soho è il rifugio perfetto per chi cerca un'esperienza culturale unica, sotto tutti i punti di vista. Il nostro suggerimento è quello di esplorare i negozi, gustare i cibi provenienti da tutto il mondo e assorbire l'atmosfera cosmopolita di questo affascinante quartiere. Portobello Road. Proseguiamo il nostro itinerario esplorando Portobello Road, una delle strade più pittoresche di Londra. Questo mercato è rinomato per la sua varietà di negozi di antiquariato, negozi di moda vintage e deliziosi banchi ricchi di cibo. Perché non passare una manciata di ore in un luogo visitato da milioni e milioni di turisti all'anno? Se si ha il tempo, è possibile visitare ancora altre tappe importanti e imperdibili, come Trafalgar Square, la National Gallery e Hyde Park, il magnifico parco nel cuore della città, e poi il quartiere della City, che è il centro storico della città. La City ha un'atmosfera vibrante e veloce, associata soprattutto alla finanza, essendone il centro mondiale. E' anche molto rinomata per la sua vivace vita notturna, con la presenza di locali per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ma ecco la sorpresa finale! Deschard, l'edificio più alto di Londra. Se vuoi scoprire un lato affascinante e moderno di Londra, il nostro suggerimento è quello di non perderti assolutamente Deschard. Inaugurato nel 2012, con i suoi 309 metri d'altezza, è l'edificio più alto di Londra, progettato dal celebre architetto italiano Renzo Piano. Potrai salire sulla sua piattaforma di osservazione per godere di un panorama mozzafiato. Si tratta di un'esperienza unica, e che renderà il tuo viaggio davvero indimenticabile. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e seguici, e poi corri a visitare il sito www.prendilvolo.com per trovare volo e hotel e programmare il tuo prossimo viaggio a Londra. Buon viaggio! www.prendilvolo.com